musica ok, centrifuga rapida, modalità ecologica, temperatura, e ci siamo forse no, andrà bene così, beh alla fine non è stato poi così difficile, alla faccia di crepe ehi crepe senti non parlare, ti avevo detto di non provare ad usare la lavatrice è accaduto tutto così velocemente, cioè può capitare hai distrutto tre lavatrici nell'ultimo mese, svergognato crap, che belli nuovi guanti quindi niente vestiti? bene, allora mentre crepe ripara danni io vado a caccia aspetta, da quando è che vai a caccia? da quando l'uomo ha smesso di cavalcare i mammut? ah adri dov'è l'abitatore? in bagno, nell'armadietto dei medicinali ma per che cavolo? non ho voglia di discutere ehi crepe che vuoi? non è che mi faresti la colazione? no maria, io esco anzi, in rispetto di crepe per evitare di rompere anche il frigo oggi farò a meno della colazione così crepe capirà quanto sono responsabile e per aiutarlo darò anche una ripulita alla stanza di Hachu oh mio zanigio chi mi ha chiamato per nome? la vecchietta delle caldarroste in via santa genoveffa al civico 22 maledetta gliela faccio vedere io non può veramente averci creduto forse è meglio che vado a dare una scopata alle foglie ma che oh no ma che cavolo sta facendo e Hachu da dove hai preso quei cosi? Amazon ah spero almeno che non abbia usato la mia carta è vero pure che sono l'unico ad averne una Dio che stai facendo? questa nuvole è dannatamente difficile da parcheggiare ma attaccala ad un albero e non pensarci alberi Dio credo in voi scusa ma che è stato? sarà stata una gazzella a scorreggiare ah comunque questo è un passo carrabile quindi non posso parcheggiare certo che puoi però almeno attacca il cartello da un'altra parte che so un albero ad esempio anzi meglio ancora no che fai? toglila non riesco più a muovermi oh no non funziona oh cavolo 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 oh no oh no oh no oh no oh no adri stacca subito questa maledetta scopa no no adriiii no adriiii vero non puoi muoverti no oh 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 crepe ci spudella tutte e tre in punizione crepe non sei nessuno per dirci cosa fare mi rifiuto questa è una padella e queste sono delle umili scuse e questa è una fine episodio anche se